ho trovato 2 ho trovato 4 4 controventi dai 1 shot così non sfonderai con la strada ho fatto un altro qua facciamoci un team intero ho fatto un altro qua non ci siamo a terra non lo so è caduto perché non gli ha fatto la scala e si è tramortito l'avete perso erano in 2 che mi costruivano non ho capito perché ho fatto una scala però nel momento in cui l'ho fatta non me l'ha fatta mi ha messo cosa rossa sai quando non puoi farle e sono caduto e quindi sono morto e quindi dopo l'uca ha provato di animare ma per mettere un altro bug non mi ha rianimato non si è successo quindi comunque ti spammato da un'ancegranate pure e basta esatto ho detto un'altra, beh guarda lì l'abbiamo vinto, quello che hai visto un'altra, 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 non è che abbiamo fatto tante partite, quando abbiamo fatto un tipo 4 partite avremmo fatto c'è gente che non è lontano da qua, io non ho, ho C4, ecco ah io ho un cittino e basta, mi rubi la forza che non ho niente eh nemmeno io ce l'ho io ho uno cazzo di cose qua ma chi è qua fuori che si spicchia? ah moriamo moriamo, aspetta che lo voglio, ah è facciato, facciato, facciato si agarmi, aspetta ammazzola vabbè, prevele dopo i giardicoli, ah no l'avete fatto cagare sotto, dai questa l'ha una pistolina, avete colpi di pistolina? pulpo il cattivo è stato dopo un po' un po' di pizze, è stato piccolo, è stato dopo un po' l'ho scaduto qua ci sente la bostura qua ci sente, è stato una mazzata aspetta si ci sente qua qua sopra, qua sopra, qua sopra ahahah più grande ah no qua dentro tira la bomba, tira la bomba vai, vai cazzo ci fate eh bene, bene, bene oh la trattura bomba ma che? boh, la trattura bomba ah è sotto, sotto, va che c'è il loot sotto ah ok, bella ma c'è la macchina che fuma non ho il palazzo raga e non ho il cerchino bohumbiii io non cerchino tipo di merda che stai quale c'è quale il palazzo oh due un po' forti però, eh ora siamo in tre, abbiamo bisogno videochi prodotti prima adesso un po' il jetpack raga qualcuno che riesce ad usarlo se lo prende perché non è un bel pezzino ah per me è comodissimo è lì sopra, è lì sopra bastardo volete perdere l'empo inutile bastardo non capivo dov'è ma ci diventa tanta ti spara a te? no no non ho capito questo io non ci entro lì dentro uno è morto qua è volato l'ho già hittato eh questo l'ho già tolto un po' di scuola no bucchelo bastardo c'è un utente volante dove vuoi andare ma c'è l'altro agente dietro comunque no e uno l'avevo ucciso ah merda si ecco l'altro agente oh c'è chi mi ha preso da dietro oh oh c'è chi non ho dove troppo saleato perché ce l'ho lì in merda forse però eh ah sono dell'altra oh mi figlio il c'è chi mi ha preso adesso sono l'altro ma dove? ah che c'è chi sta volando? no 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 a noi torpito numero no no è sbagliato una è sbagliato ah non ci piaccia oh mi ha fatto la scuola per la seconda volta che è bello ah io buccio queste prima che le orainiamo vaffanculo no mi sono tutta sola sono tutta la scuola me l'ha fatta qua guarda che mi ha fatto la guai vuoi un medico Sì, tanto lo scudo ce l'ho, dovrei averlo, credo Viene da una caduta, fai averlo, non c'è quanto è rimasto Ah ok, rivedo lì, se no che sto rendendo, arrivo Luca No, te l'ha ucciso lì qui Illuminati Crew, guarda, Illuminati Crew, guarda Cosa? Boh, giusto lì, ha ucciso Illuminati Crew C'è altra gente, c'è altra gente, va Io mi curo con la chalda, raga Ok, hatchet, ha uno, hatchet, ma non è morto, non c'è un cichino di merda Non ci credo C'è qualcuno qua, Luca? Era uno, uno risotto perché, eh A per un altro, e poi c'è uno che lo ha fatto hatchet A uno lo ha fatto hatchet, lui non ha vita neanche l'altro, eh Grido Neanche l'altro la vita, che lo ha fatto hatchet È slide, non ce l'ho prima Sotto inazio È qua su, è qua su Sì, sì, lo ha fatto hatchet col cichino di cicole, quindi non ha vita Ok, se se la rimette neanche, no, no Dai Oh, devo fare un cichino qua, come è un minuto Fatti la pozza Hai un medico, qualcuno? Oh, qua, qua, ci sto puntando Eh, quello, quello, il piatto di... Ah, quello liberato, quello non ha la vita S通ani siamo fortissimi Sì, sì, serio Si sia una Cosa, che pò nel cecchino Mi stanno, curando a scopri Mi coprano v Nah, aspetto Oggi siamo al 14 kg Ti sono a posizioni di magliani Ti sa dire, ah, è qui Anche è qui Ah, qui Succhi Saluto dal Grazie Andiamo in safe Comunque c'era Dottore Lupo Non so se avete visto E' fatto delle clip bellissime con il jetpack Eh ma io... Sulla playdip Se ne hai premuto X e puoi muovermi E sparare Anche con L2 puoi volare Ho sbaglio Si ma si ferma subito L2 porta Si si ma si ferma subito Ma puoi per mirare non lo fa No no prima salta Prima devi saltare con la X E' vero Vabbè con L2 puoi sparare quanto vuoi Ah no così è comodo allora Eh beh si si Ma lei non me lo fa Forse perchè tu hai tassi diversi Tu non hai mai il... E' comodo proprio E' comodo eh con L2 Io sono con barra spaziatrice quindi posso muovermi A 360 gradi Sparare No ma... Vabbè anche con L2 L2 è secondo Non lo sapevo Ho sentito qualche sparo Usiamo il trambolino e andiamo da denis In il trambolino Vaffanculo Non ha vita non ha vita Ho tre volte Ho tre volte Ho aiutato una volta io? Tre volte Ho aiutato quello di sotto Ah io pure la donna ho aiutato Vabbè eccolo a te Bravo Ah quella non l'avevo visto quello di sotto Ah ok tu quello di sopra No io sotto tre volte infatti Ah no io la donna la donna ho aiutato il piede Ah ecco perchè stai stanto Faccio possibile che non morire L'ha messo qua faccio due dici Avete un trambolino Avete un trambolino? Eh ragazzi Che sai? Ah sei già facendo la scala? Qui 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 Ehm 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 Eh 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 Con l'ho Un'altra cosa Con l'altra cosa video che potete fare 40 Un approvigionamento Con i trampolini possiamo fare tal degli evil se bruciamo sempre con i trampolini Ancora uno Perché dall'alto si vedono più gente, capito? Infatti i nickmechs così facevano Ma nickmechs c'è? No, non ho sparato Ma anche cosa? Qui sotto c'è gente Sì, 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 infatti Nickmechs non è forte Usa gli standard come me Ma io sono più forte secondo l'apposfera Ha la mira La riesce a costruire lui Sono lì sotto Ha tanta mira da lui Sì pure Ci ha la mira di attasso Però Quello che ci fotte a noi è Quello che ci fotte a noi è Il costruire Perché abbiamo gli standard Chi ha un medikit? Nessuno? Vabbè io faccio un follow Vabbè io faccio un follow Vabbè io faccio un follow Vedo un turn Oh ma siamo fuori C'è solo fuori Dove sono i tipi? Ah la il pelo mio qua Hittato Ma perché non in te Oh lì più in testa 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 Mi sparano da là Da sud-est Ma non quanta gente Alla Alla uno l'ha hitato L'ha giunto Eeeh Mi sono sparano da mille parti C'è qualcuno dietro le rocce 105 Ok Alla guarda 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 Oh No Eh ove che ne abbiamo altri due C'è che è nato uno L'ha colpito uno raga E dove? Non ci serve qualcuno Mi sottili Mi sottili Tiene un po' 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 Abbiamo due dietro Due Mamma mia Guarda non si secchino Ammazzate qui Ok l'ho ammazzato Dove? Ah ok È l'ultimo Io vado a lootare No no era Era per terra Ah no? Si si era per terra Perché l'avevo secchinato uno Però non l'era morto Eh anche Era quella Ah ok 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 è morto Mi penso che l'hai tutto io Cossi così No 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 Vabbè vabbè Io intanto controllo qua la situazione Se ci pusciano Oh la safe Ci sta muovendo Venite qua Io sono giocatore C'erano due là Che facevano i furbi Ah sono ancora là Sono ancora là Prendete le pietre Io ho ancora 3 Ciao 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 Tu hai una check di scorta Luca? Si si ne ho uno Eh forse L'ha fatto Si si è fatta L'ha fatto Ehm Vieni qua Ehm Andiamo in serie Se muoviamo qua Nessuno ci reanima Jumpiamo Luca Jumpiamo finchè abbiamo la meteorite C'è uno C'è uno qui C'è uno qui C'è uno qui C'è uno qui Ehi Ehi Ok 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 Mi ha dato un sacco di vita qua Colpito Non la fa vita Mi vedo un cazzo Colpito Non mi vedo che metto la jump la metto eh Mette Mette Metti la jump Metti la jump Metti la jump Che io non ti arrivo solo Ok siamo enterati Siamo enterati Siamo post Ok Ok Io ho 2 jump Le ho presa Deme ne una Anche a te serve Sì Se la facciamo in tempi Ah si una me la faccio Io me la faccio Sì sì Ti rivedo nei fondi Io ho tanta legna adesso Eh me la dai un po' che non si entra Sì 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 Ehm Entra Io ne ho pure grande Oggi siamo a 20 kill Eh a me non ho fatto più Minchia mi hai coperto Ah no ieri Avevano fatto un sacco ieri eh I territori ieri tipo Avevano più di 30 ieri Sì ieri 3 me lo avevo fatto C'è qualcuno qua sotto tipo eh Ah lì Eccolo E' evitato due volte Sì si è Ma che ho colpito Sì si è Tutte le tue in parte Viene tra le tue No No E' qui qui qui, rada Ma che è uno lì ho sentito tutto lo scudo È one shot Dietro il sportino questo qui fuori da sopra capito che è una terra oh che è un'altra terra oh oh no luca battuca battuca qui 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 io ero chiamato guai è qui la femmina come me ragazzi oh fatta io vado in testo se non muoio ma io vado a te luca ma siamo 3 contro 1 ah si ah bella 25 kill 25 kill bellissimo bella quantità quantità ho fatto 12 assist cioè 12 assist e 2000 danni bastardi io ho 12 eliminazioni e 3 assist e chi sono i 12 assist miei super un luogo che è stato sei qui è altra